Arriverà in Vespa, scortata da poliziotti, ma ovviamente anche in sella la sua immancabile scopa. La vecchietta più amata dai piccoli è pronta a far tappa anche ad Arezzo per riempire le calze dei bimbi di doni, dolciumi ma anche carbone. Tra gli appuntamenti più attesi per il prossimo 6 gennaio indubbiamente c'è quello con una befana per la città, organizzata da oltre 30 anni dal quartiere di Porta del Foro, come sempre presso il palazzetto dello sport Mario D'Agata. La manifestazione avrà inizio alle 16, nel corso del pomeriggio si esibiranno numerose società sportive del territorio assieme a scuole di danza e ginnastiche a retine. A fine serata arriverà anche la befana che come la tradizione regalerà ai bambini presenti caramelle e dolcetti. Sempre in città domenica prossima arriverà anche la befana del poliziotto, un'iniziativa a favore di casa Tevenin. In via Sassoverde arriverà infatti la simpatica vecchietta che porterà donne e dolcetti e giovani ospiti dell'associazione. A Montevarchi invece la befana arriverà in Vespa, l'appuntamento è per le 16 in via Roma, la nonnina porterà con sé le calze da consegnare ai più piccoli. Sempre in Val D'Arno a San Giovanni, sabato 5 gennaio, si anticipano i festeggiamenti per la befana con un'iniziativa dedicata ai bambini, alle famiglie e a tutti i sognatori, il lancio collettivo dei palloncini dei desideri, il retrove per le 16 e 30 in piazza Cavour.